ciao a tutti ragazzi sono carmine e benvenuti a questo nuovissimo video di minecraft parkour spirale siamo in compagnia di tommy che adesso è il momento del bagnetto e non sono un cane e oggi vi do il benvenuto all'episodio 3 di minecraft parkour spirale se non avete visto l'episodio numero 2 vi consiglio di andare a vedere perché come anche nell'uno ci siamo divertiti un sacco io vi lascio alla al video e adesso mi metto un attimo in prima persona e possiamo incominciare comunque ci siamo studiato pure questa ma buongiorno dobbiamo scavare la miniera qui comunque qua ho letto su qualsiasi che tu ti metti qua aspetta arrivo mica posso guardare da laggiù aspetta che mi faccio il salto migliore vada tu devi metterti qui si togli il shift e salti l'ho visto su qualche parte su qualche sito ok era facile questo questo parkour era facile eccoci poi tu devi andare no sono cazzo no dai vabbè tanto è facile ragazzi diamo sostegno a carmine carmine cadi carmine cadi no grazie no grazie ok non lo voglio adesso ti devi cercare lo sai lo sai vai ma guardami che guardami ti sei guardando a te stessa si come puro adesso ma non sappiamo più guarda come faccio qua andiamo carmine forse qualche non è che qua carmine vabbè ma non c'è l'acqua per i passati se vedi ah no no non è che mi devo buttare il mio teletrasporto qui mi butto un attimo ah no come c'è la scala c'è la scala qui guarda qua eccolo hai visto le mie carmine è facile sempre non cadere qua vabbè qua so anche come si fa carmine uh sei caduto tu non mi hai visto no poi quando no nooo vabbè come vedi capire posso ripartire da qui bam sono schiaffo ciao tommy tommy guarda io non voglio più giocare tommy guardami sopra di te no come come mi fai ma sono caduto allora ragazzi perché oggi non riesco a fare questo chissà perché ma perché non riesco a perché non riesco a prenderlo sei scarso oh 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 dove sei devi salire sulle scale ciao andiamo qui eccoci e poi si dovrebbe andare perché hai trovato la strada certo che facevo qua che stavo nel frattempo a guardarti qua anzi dovrebbe essere così hai capito qui come si va qui credo allora qua devi andare sui sui devi cadere eh aspettato mi avevi laggato per un attimo pensavo che ce l'avevi fatto no anche hai laggato a me io sono caduto anche io sono caduto questo è facile questo quanto odio il finale di parkour spira ovviamente non vi preoccupate questa non sarà l'ultima parte poi qua che cattiveria ragazzi poi si salta in bocca su lui ragazzi cioè ci fermeremo perché comunque saranno livelli difficili il video durerà molto quindi si se vedrete pochi livelli poi li faremo quasi tutti no se l'ho caduto anche io eh tutto di fila credo si oh ce l'ho fatto devi andare di ritorno non devi spar oh com'è siamo quasi alla fine saltiamo vai già vediamo ah no 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 eh Tommy gli alberi sono lontanissimi c'è si vede una malapena eh hopla no dai così vai qui vai qui ah sulla grotta mi aspetto no devi andare come io sono andato a mettere la come su questo devi prendere la rincorsa la rincorsa la rincorsa andiamo andiamo ah si mette il paligio di su perchè noi vogliamo arrivare a 10 iscritti almeno così facciamo lo speciale noi abbiamo carissimo che vorremmo portare una live poi ci proveremo a quanti live arriviamo? ma non lo so vediamo quanti noi non lo diciamo vediamo a quanti a quanto riescono ad arrivare a quanto riusciamo ad arrivare vediamo se riusciamo a battere il record Tommy da dove perché ti sei buttato giù subito? no perchè qua c'è la scala ah ok ok poi ce l'avevo visto ah era questi i livelli che abbiamo eh vabbè Carmine guarda là no mica devo atterra sulla minifense ma secondo me si è fattibile è fattibile perchè nooo voi non avete visto niente io ho visto però eh allora l'ho visto proprio ah ce l'ho fatto eh non ce l'ho fatto invece stavo proprio per picchiare quindi c'è nooo perchè ma dove sei volato? nooo ma no perchè dai dai gli serviva a buttarmi giù per farcela hai visto? se non mi buttava giù ce l'hai fatto? sei caduto io ce l'ho fatta io ce l'ho fatta hai visto come faccia che saperlo io ce l'ho fatta invece e qua nooo ah qua si nooo nooo ma guarda che percorso nooo all'ultimo oh no no Tommy ah no sono caduto ancora ciao Barbie ah niente non l'ho preso oh oh ti 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 ce l'ho fatta vai qui vai qui vai qui vai qui nooo anche io sono caduto all'ultimo ciao anche io sono caduto all'ultimo ma l'ultimo è difficile siamo sicuri che si può fare? Tommy si può fare eh io ce l'ho fatta però no perché ce l'hai fatta nooo sono sul tetto come è? carmine ciao Tommy aiutami 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 non è burro qui voi sì e vabbè sì ma ci arrivo se ce l'ho fatta ce l'ho fatta Tommy già dovrebbe darsi uno scarpe vai amico dello spettacolo scelta 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 bene lasciamo decidere i nostri spettatori che è stato il più bravo ragazzi voi dovete a 10 iscritti faremo pure lo speciale dove in quale città abitiamo che senti che senti senti mica cadi no ma quindi bam dai muoviti ma io ce l'ho fatta ma io ce l'ho fatta ma i tuoi amici sei oh e buongiorno buongiorno allora poi tu devi salire qua qui vabbè dai non cadere qui che ti ah cioè io ti massacro la pelle cioè non la pelle io ti massacro sai dove stiamo vedo un attimo dove stiamo vedo una vediamo se ci stanno carmine vedo quasi eh sì però sono molto lontani lo devi fare iiii iiii come ma adesso qua da 3 anni tu arrivi e ce la fai ma che cado carmine ah siiii sei caduto giu vabbè tu non riesci a farlo grazie tommy e io non ce la faccio ci siamo invertiti oh tommy ce l'ho fatta cioè che ci vuole e la pressure plate ci sono ah tommy siamo nel livello dell'endo bravissimo è difficile dai ma che dobbiamo fare qua i salti a giro e dai ho l'ho l'odio ho fatto ha fatto anche io e poi prima tu vai Vado prima io Bravo Poi Bravissimo Vado Vado Sono caduto E poi Poi dove si va sulla scala Sulla scala e poi vai sul tetto Io faccio già fatica Ciao Armine Ciao Tommy Vattene via Meglio te così Su Su Vai Adesso girati No Ma mandi così Dai Dai no Dai non così Non così Ok Ok Tutto in diretta Vai Tutto in diretta No Dai 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 sì Sulla scala E poi girati Vai Tommi Tommi Cadi No Sì Sei caduto Nella lama Nella lama Aia No Non sono caduto Ci sta Sono delle fette Se fosse un fulco No Toma pochi cuori Ma qua Ma qua No 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 Vai Vai tu Sì Vai Ma io Ma io se la faccio Fare questo Vai Così 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 Ma cosa Ma cosa sei Sono Sono un H Ma cosa sei Ma che ci vuole farlo Sei un cretose Cretose E ma che Dai che ci vuole La faccio Sare Ci siamo 5 secondi Per fare Quello 119 Ah Tu mi premi La pressure plate Aveo mario Così Se perdiamo Ci basterà Rinascemo Che scemi Che parole Usi Allora Ragazzi Lo sai Che Per secondo Abbiamo fatto Un po Pochi livelli Però avete visto Già da quanto Stiamo registrando Siamo forti Vabbè Noi Il video Lo vorremmo Chiudere Tipo A 14 Minuti Ma non lo dire Ma che Te neanche No Vabbè Vabbè Basta C'è la Press Place Sì Continuiamo 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 Ci penso A tre livelli Poi ci ritroviamo Alla fine Vabbè Noi lo sappiamo Quando sta Per fin Vabbè Che cosa E' bell'ultimo Fatto Come Che ci vuole Ma l'albero Non riesce a fare Ma sta un po' Pante No Sono un popolo Ma come Ma dovrebbe fare La nicola Che cosa Cosa Oh E ci sei Vai Tommy Vai Tommy Vai Tommy Sulla slime Sulla slime Sulla slime Eh gigante Cioè gigante Non potevi sbagliare Lì Su 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 Prendiamo il filo E' bell'albero E' bell'albero E' No È tutto lana È tutto lana Una corsa E' bell'albero E' bell'albero E' bell'albero Anche la terza parte Di Perfetto La terza parte Di Parkour Spiral Ovviamente In compagnia di Tommy Ciao Noi vi salutiamo Vi ricordo che Ho detto la intro iniziale Vi ricordo che Ieri abbiamo Girato la seconda parte E chi non l'ha vista La prima La seconda Che non l'ha vista Li consiglio di andarla a vedere Noi vi ricordo Non diciamo like Ma vediamo a quanti like Possiamo Riusciamo ad arrivare Scrivete un commento Se vi piace questo video Noi vi salutiamo E ci vediamo domani Con il video di domani Ciao ciao Ciao